Benvenuto nel mio laboratorio di pasticceria. Io sono Andrea Di Giglio e sono uno chef e pasticcere. Ho ideato un corso di pasticceria interamente online, l'arte dei dolci lievitati. Un corso imperdibile per chi ama i lievitati dolci, dal croissant fino al panettone. La realizzazione di prodotti lievitati utilizzando tecniche professionali, dal lievito di birra fino alla gestione del lievito madre. Lievito madre solido, lievito madre liquido e tantissimi approfondimenti. Un corso fantastico per chi è appassionato di pasticceria. Compilando i dati qui sotto riceverai la prima masterclass gratuita per vedermi all'opera. Clicca in via e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!